Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Questo è un video molto molto breve perché sono andata in edicola e ho trovato la rivista Starbene con all'interno un omaggino. E siccome avevo voglia di una lettura leggera da fare sotto l'ombrellone nei momenti di relax, l'ho presa approfittando appunto dell'offerta perché ho pagato questa rivista solamente 2 euro. Vediamo al suo interno che cosa contiene. Ed è questa crema qui, questo gel freddo. Sono 75 ml di prodotto. La marca è Natural Benex ed è un gel freddo con ipocastano, centella, ginkgo, aloe e menta piperita per le gambe leggere. E' prodotto da Erboristeria Magentina. Ecco qui. Allora, lo proveremo. Vediamo se si può già... No, ha il sigillo di protezione. Lo proverò e poi magari vi farò sapere come mi sono trovata. Per cui se avete voglia di passare in edicola e cercare questa rivista, sapete che all'interno c'è un bello omaggino con solamente 2 euro. Detto questo vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao!